Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui sul Saints Row la storia sta iniziando a prendere una piega un po' diversa, migliore? Non lo so, vedremo naturalmente strata facendo c'è una missione che mi intriga parecchio, ecco perché la volevo fare, comunque abbiamo profilo basso tutte le azioni abbiamo un vantaggio maggiore, è il primo che sblocchiamo tra le abilità niente, abbiamo sempre le stesse e mi farebbe molto piacere uscire anche a implementare questa qui quando attivano la discite e i tuoi amici danneggiando i nemici, però probabilmente dobbiamo giocare insieme agli altri comunque è la missione, quella del treno, la grande rapina al treno, quindi direi di attivarla Ci serve una macchina? Siamo arrivati al cimitero Oh, uh... Siamo arrivati al tempo Quindi, come vuoi fare questo? Non lo so, drive al treno, figure out where they're keeping the dough, hop a board, and then kill the shit out of anyone who gets between us and our money? Siamo bene, let's move Uh, wait Before we go Oh, no, I have a couple of me already Before the whole Saints thing got started, I got depressed in order to hold a lot of knives I figure if this is our only run together, you should at least get a souvenir It's beautiful Thank you Let's get that money Cioè, è strano questo Cioè, non lo so Non mi convince, vi dico la vita Cioè, è vero che l'abbiamo salvato Però Non è che potrebbe avercela un po' con noi Ma no, non mi direi che mi fai giocare Cioè, è che ci sta sparando Sparare a board del treno Mi stanno sparando Ah, ecco qua Scusate Allora, sale sul treno di qua Guida Oh, come va? I'm with Kev Sparare a fuck Sorry Dina's going to bring me up in step We'll see We'll be right there Don't mind me, just passing through Ah Ah Lost the turret Oh Problem Marshall lock the train down I'll have to hotwire the doors Good thing I used to work for these assholes We're close Hang in there Oh Shit Nina, stay back, they got a turret What is your plan now? Uh, getting close and trying to hotwire it? Yeah Call that plan D? Iniziano a cadere Ok, vai Ok, sera Ce la faccio, ce la faccio Ok Ok Siamo dentro Screw hotwire And I can take out these control Sistema malfunctioned Defense off line Turn down You can bring in the Nuali now Closing in You better keep moving Looks like they're off to something A few cars Oh, God Uh I can taste that money already Non capisco a chi stai sparando Però Occio, occio, occio Gagli, da voi dico per più Ma sono bellissimi Cioè Ma pure Mi dico la vita Ragazzi Non è che vi asco Allora, facciamo così Ammunizioni come siamo? Ammunizioni di fucile Ah, sei qua Vai Stamote è fanta Io so qui Ah, che bello Ci dividiamo anche Questi sparano a noi E qui sparano a loro Fammi capire Dici come ne sparate per prima Credo che loro sparano Stiamo un po' Stiamo un po' Questa non c'è la penera Questa Non lo vedo in polma Questo mi sta menando Vedi, vedi Ok Ma noi ci avevamo anche No, non ci avevamo nessun'arma a mano Perché ho visto Ho visto che in pari Guarda che ti sto aiutando Non c'avevi una mazza in mano E' andato via Ma quello che stava qua è schiattato Quantico Un'altra Un'altra Ma Un'altra Un'altra E la Un'altra Ci sargolare Lanà L'arrivini SB6 questo non capisco bene che cavolo fa che c'ha bella questa tipo una sorta di armi c'è di che roba c'ha in mano attenzione che quello che l'ha fatto pure in aria e se riusciamo a lavorare bene di copertura con le varie cose che stanno qua per terra tutto così magari non proprio così che mi sembra un po' eccessivo ok mi sembra eccessivo che mi sta sparando andiamocene mi sa che è meglio caricare allora questa situazione quella oddio mio aspetta che ci sta quello grosso mi chiamo a quello grosso e il fai aia bella è luce lo c'è la prima parte meno male bella ma te lo bella potete che fate? paraniamo pure un po' di munizioni forse ah non lo usiamo più parca miseria che fortino questo che fai salti sull'elicottero e me lo abbarti? come l'abbiamo male? sorry if I surprised you I thought stealth would be our ally yeah no wow you just killed him pretty hard it was nothing I know I just kind of recognize be the one to you know what it's good it's all good let's go get our way oh that must have hurt beh in theory dovrei andare dovrei andare tu avanti però fai niente ok un altro turret segui la mia lega I know how to handle myself against marshal ok ma persi il martello ok ok a voto a voto no 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 un maronna ai reni ai reni cioè ma come fai a girare e non vecchiarlo? sei fantastico certo Sergio è morto grazie un'autorizzata let's take this puppy down ok distruggo a dove sta l'amico? oh ho fatto il martello che è successo? defensa turret offline si è consumato il martello no? arriva arriva a comma a comma a comma o i v i v avai v v v ma sto cavolo di treno, ma dove c'è occhio, occhio, vai, non ti riesci, dovrebbe stare qualcosa là che dovrebbe funzionare e dai, porco, ma proprio non ci dovrebbe avere una mano, allora no, 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 ok ok, addio, ok, dà, ce ne sta un altro oh, c'è due fantastiche moto e non li ha prendo, allora non li ha prendo, ma lo vedo, l'anito non li ha prendo quindi per aiutare qui lui? e vai arrivo eh è tipo con la bomba dell'ossigeno praticamente è morto ancora un altro oh ma quanto ce ne stanno? bastardo e dai manco il calcio del cadar e dai e dai non riuscivo a dargli il calcio non lo so eh non ho munizioni vediamo oh marone vabbè 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 provostati a entrare è andato facciamo un po' di strada pulita? ma camminava ste cose? non camminava vabbè da un piccolo contrattento alla faccia vabbè 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 arrivati ci vengono addosso? sempre con la pistoletta che liquide vabbè 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 Grazie a tutti. Io non mi piace salto di mille di episodio. E basta, così. Io pensavo che gli sparava prima. C'era un po' un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Ma aspettavo un colpo di scena in questo... Ma... Mi sono rimasto un po' malo. Non lo so perché mi ero costruito questo personaggio così... Però evidentemente forse doveva andare così. Un'altra piccola delusione anche nella storia. Che dobbiamo farci conoscere e mostrare a tutti il potere dei seni. No, già la chiesa. E vediamo che c'è. Ok, abbiamo il nome, abbiamo il spazio, abbiamo il logo, abbiamo i servizi... E abbiamo il fucking money. Yeah! Che significa che c'è un'altra cosa a fare. C'è sempre un po' 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 un po'. Oh, quindi tu perdonati Sergio's heart! I was there for moral support. Non so, perché la sua parlata è che il Nadali è una scena di un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Noi non ho capito di questo, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che ci sono un'instituzione. Allora, quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa che dice che non stiamo andando niente, vieni a noi. Exacto. Abbiamo scoperto il Codex del Hummingbird. Marshal ha chiesto di protegere, Panteros e le Idols ha chiesto di scoperto, e se non fosse per questo bambino, non avremmo scoperto il Saints. Deve essere noi. Mi piace, come facciamo? Cioè, ho deciso di andare in con un po' di scoperto e uccidere la piazza di tutti. Ma se vogliamo fare qualche film di heist, posso lavorare con questo. Sì, scoperto. Siamo bene. Tutti d'accordo? Un po' è una cosa facile. Vediamo. Bella la chiesa. Ma non stiamo la chiesa. Casa Bianca. Perché dobbiamo scassare ogni volta? Probabilmente lì, perché è più vicino al museo. E' praticamente l'altra porta a noi? Sì, scoprire il Codex è l'estate più facile che abbiamo fatto. Sì. La siamo gestita un po' male, questa qua. Vabbè. Allora, armi, munizioni. E andiamo. Hey, you neon assholes. We're here to steal back the Codex you stole after it was stolen from other people. Oh. Che è? Mi muoio, no? Che serviva quella cosa, bu? Ma questa che cosa è? Dice... Oh, non serve a niente perché, praticamente... È una, è una... Serve fondamentalmente a non farmi... Eh, questo è quello serio, vedi? Questo ci piace, i fuochi d'archivio ci piacciono. No, 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 no. Occhio, ok. Stiamo un po' saltando in aria. A calci, a calci, a calci, a calci, a calci, a calci. Arrivo, eh. Ok. E' andato. Ne sta un'altra che ci sta rompendo le va. Ok, grande. Ok. Ok. Questa è la forza. Ma come fa a dargli una schiaffa col casco? E gli infili la mano dentro. Che che dù? Ancora hai capito a che serve questo, eh? Quìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Vabbè Per numero uno, per numero uno Pfff, a caccia in bo... Vabbè Massa, fa... Aaaaaah Allora... E' chiaro, da qui a qui Andiamo a prenderlo Ho convinto che arrivassero in tanti qua E invece... Niente Preso! Siamo che dovessi provare a prendere il Codex eventualmente Ci sono iniziato Grazie Per provare la sua propria predictabilità Non è predictabile Sì Non è il Codex, è un altro fake E una bomba Ma che una bomba È ok, io posso disarmare questo Probabilmente Martial training, Martial training Ho capito Oh Questi f*****ci ha quasi f*****ci E potremmo f*****ci Sì Sì Vuoi trovare il Codex E bussare alcuni cittadini Sì E' da dove si schifano? Ma arrivano qua Ma arrivano qua Ok 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 Ma ce ne sta un altro Se non riesco Non riesco a fregare E' nostra E dai Ucciso Ok 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 Come Ma Come 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 Allora Allora Ci continuano ad attaccare Prendi la mente Ah se non fosse per questi Lui, hai detto solo A-F? Sì, è un'appreviazione. Prima, abbiamo chiamato il gioco tutto il tempo. Secondo, è solo un'appreviazione quando ti chiedi. A-F. 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 Sto stesso numero di scegliere, sbagliato. Ok, bene. Questo sarà un'epoca, perché l'acqua è guardata a A-F. E ogni uno di loro potrà sapere cosa succede quando provi a farlo in un sacco. Sì! Ok, mamma mia. Siamo fuori? Uh! Prendi una moto d'acqua. Attenzione a non cadere. Vengo quella di sinistra. No, ma fa schifo. Già sei nati no! Ma che vado sotto? Stanno sparando, eh? Vai! Guida! A-F. Attenzione alle barche. Pure notte, quindi. Speriamo di non morire. Oh! Questo è un salto? Sì! No! Non era un salto. Oh, perlomeno... Era un salto al contrario, scusate. A volte la vista ci inganna. A volte la vista ci inganna. A volte la vista ci inganna. E' bravo l'amico, eh? E' bravo. Occhio, occhio. Sopra, sopra. Attenzione sotto. Questa bastarda che ci sta... Occhio! 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 Ma chi è che sta lanciando? Ma chi è? Ma stanno sopra, penso, eh? Qui! Occhio! Oh, sopra. T'era la presa qui? Occhio! Ah, to' un missato. Ma chi è! Ma chi è? Occhio! Chi è? Mi arriva con il cuore. Io mi prendi buttare la vicino, anche se li prendi. Occhio! apri si è arrivato da qualche parte mazza quanti ce ne stanno ok guarda quanto li schifo quelli che mettono a fia gara ok è andato come va e allora ok il codex è qui si, facciamo il nostro stato è andato oltre a questo e diamo a bello frate ok ci siamo un'altra bomba è andato è andato che siamo bravi pianta la bomba ah deve entrare qua vai e vai alla sul punte c'è un problema grazie bello c'è vai ok si ma l'elicottero lo sei ah ecco dicevo il lovito ma è andato è andato Siamo in un po' con una bomba live e un po' di idoli angliosi? Sì, sì. Quello forte dovrebbe essere andato, eh. Non riesco a inquadrarlo a questo. Occhio. E' fortissimo questo. E vai, perché non lo ammazzi? Ma, mamma mia. Uccidi il secondo membro. Porca... Da dove scappiamo? Da qua, amore. Eh, raga, però... Porca... Andiamo, andiamo. Scappa, scappa, scappa. Non pensare al fuoco e scappa. Uo, c'è una bella barca. Uno Scarab. E ci dobbiamo sempre buttare così, no? E' amico, ma... E' amico, ma... E' amico, ma... E' amico, ma... Arriba, devi andare, amico. E' amico. Porca, muñata. Porca muñata. E' amico, vi perdi a casa. E' da loro motivo di non seguirmi. E' amico, l'arriba non seguirmi. E' un po' complicato sparare da qua, mi capita E' da vicino, lo tiro qui da ogni tempo E' una male che i covecchi sono finiti perché come ho qualche altro Oh mio, che c***o di missioni Chi messi con i Saints? No one! Io ho detto, chi messi con i Saints? No one! Tu è vero, no one The Saints stai a presto in the pan Siamo qui per rimanere The four of us founded the Saints But it belongs to all of us It belongs to anyone who dreams of making something of themselves And are fucking tired of the world trying to hold them back Life is hard enough without having to deal with middle managers With no discernible talent telling you how to do your job Without having to deal with assholes Who've had every opportunity handed to them But never had to fucking work for a single one of them Without being told that your time will come You just have to wait Be patient Well let me tell you something We're fucking done waiting We all did the work Now it's time for us to reap the benefits Kev? I think it's time you throw us a hell of a party Che vuole di fare il giudino antiproiettili? Vabbè Vabbè Ok, fessano rapide Stefano Squilla Vediamo che c'è Anche nuova abilità Vabbè Ragazzi Due episodi belli Cioè due emissioni Belle toaster Mi aspettavo un colpo di scena Non c'è stato Ci vediamo nel prossimo video Bye Ciao 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 Grazie a tutti.